Devo andare a scuola! Non ce l'ho niente per la scuola e tutti i quaderni vecchi! Non ce l'ho l'astucia! Sei uno sporco! Ma perché mi sono dimenticata? Che brutto sogno! Mi devo preparare per la scuola! Mamma mi devo preparare per la scuola! Tra poco c'è scuola! Ma ancora presto puoi prepararsi per la scuola! Ma mi devo preparare! Adesso io non ce l'ho il tempo! Prossima volta! Non ce l'ho niente per la scuola! Ma ancora presto! Ma io voglio comprare perché tra poco c'è la scuola! Più tardi andiamo! Ancora ce l'hanno due settimane quasi! Ciao! Vestiti! Come faccio ad andare così? Ecco! Quando devono già arrivare! Cosa ci fai qui? Voglio comprare roba per la scuola! Va bene! Però le cose le prendi in ordine alfabetico! Amelie, sei pronta? Sì! Va bene! Andiamo a prendere cose per la scuola! Ah! Astuccio! Dai! Veloce, veloce! Astuccio! Astuccio! Ok! Uno! No, questo è già aperto! Aspetta, andiamo a vedere dove altri! È un po' strano, Astuccio! Magari hanno tirato quello buono! No, no, c'è tutto! Però hanno... C'è un mio mante! Come? Ho trovato Astuccio! Minecraft! Dov'è? Se non c'è Minecraft! Io compro quello! Oh! Anche se è più roba bene! Lettera A c'è! Lettera B? Cosa puoi prendere B? Non so! Cosa puoi essere la carabina? Bira per scrivere! Due prendo! Per sicurezza! Tre! Bira! C? Cartella! Via, via, via! Non cartella! Cartella! Così? Così! Cartella c'è? Di? Diario! Diario! Ma guarda ci sono tanti! Guarda, guarda quanti sono di aree! Questo qua! Questo qua? E? E cosa c'è? Elefante! E non c'è? Lo vuoi saltare? Espositorio? No, non possiamo saltare niente! Allora facciamo così! Ragazzi, mandateci su Instagram cosa noi possiamo comprare con Lettera A! Guarda, questo si può comprare! Oh, Pinelo è enorme! Si può cercare! Dopo E c'è... Foglio! Fogli! Dove ci sono foli? Qua! Qua ci sono foli! Fogli colorati! G! Gliocato! No! Goma! 1.100 goma! Goma c'è! H! Non lo so! Allora ragazzi, abbiamo preso le marche H, ibrite, pennelli Abbiamo preso l'inglese A posto per lettera I G! Abbiamo trovato Pastel Joy Contappa, Chores, Dirittimi per Memoria Prossima lettera L La bagna Ok, prendiamo la bagna M Masite N N Nostra! Lo ho trovato subito O Biamo in noi O Umbrello Mette sto Dai, metti il linker Sti roto? Pi! Pi, 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 pastelli! Questa è la prima No, questo è qua Pastelli Q Quaterno Finalmente Dai, scegli i colori Io prendo verde acqua Verde acqua R Righello Ecco Io prendo questo Mi immaginavo F, X Righello, C S Zaino S S Prendo una gola Verde acqua Poi T Tromba Che tromba Temperino A me piace questo Dai Temperino Uva 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 Mangiamo uva Mangiare per scuola Uva Non lo so perché Ho pensato tanti volte Non lo sai che possiamo prendere Sì, per mangiare Uova Uova Abbiamo preso uova per merenda Uova Uova Abbiamo trovato Euro Andiamo a prendere Zaino Ultima cosa Uva Zaino Finalmente Questo Ancora 5 minuti Questa Questa Nero Si 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 può Si può fare C'è anche bianco Guarda Poi così Ok Carina Ma prova a metterlo Non è tanto grande Allora ragazzi abbiamo vinto la nostra sfida Abbiamo compratto tutto in ordine A Iscriviti al nostro canale Mettete like Guardate altri nostri video Ci sta? Si E ciao 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 Iscriviti sul mio canale Metti like E condividi questo video con i tuoi amici Non dimenticare Di guardare altri miei video Ciao